In questi giorni si è parlato veramente tanto di sostituzioni in panchina, ieri è saltato Sousa ed è stato sostituito da Inzaghi, ovviamente parliamo della Serenitana. Inoltre in questi giorni sempre c'è stato un po' il casino su Rudy Garcia, dopo la sconfitta per 3-1 contro Fiorentina in casa, il presidente Laurenti sembra avere un pochino sbroccato e quindi ha fatto un incontro, ha avuto un incontro con il tecnico francese per discutere un pochino del futuro. Ad ora però sembra che il presidente del Napoli sia intenzionato a lasciare ancora altre partite di tempo a Garcia, quindi tra la fine di questa sosta e la sosta successiva, ma un po' di nomi sono già cominciati ad uscire. Il primo è stato Antonio Conte, poi si è parlato anche in modo assurdo di Giampaolo e Mazzarri e il nome nuovo, diciamo così, è Igor Tudor. Conte ad ora sembra vivere in un momento un po' di stand by, nel senso che aveva dichiarato di volersi riposare un pochino dopo la parentesi al Tottenham e sappiamo che in linea generale non è un tecnico che ama prendere squadre insomma a campionato iniziato, è uno che preferisce iniziare lui la stagione e plasmare la squadra a suo piacimento. Di Conto serve un'ottima opzione Tudor appunto perché anche lui è svincolato per l'esperienza in Marsiglia. La cosa però che accomuna Conte e Tudor è il fatto che utilizzano entrambi la difesa a tre sulla carta, una struttura tattica che non confà moltissimo con quella del Napoli che comunque è stato costruito per essere schierato a quattro ormai da qualche stagione. Ma ho preparato un pochino di slide, oggi ragazzi sono di slide, con delle formazioni ipotizzabili che Tudor potrebbe mettere in campo. Ovviamente parlo di Tudor perché? Perché è quello tecnicamente un po' più raggiungibile di cui sopra quello che ho detto di Conte. Quindi partiamo con la prima, quindi un 3421 che sappiamo qual è, insomma questo è il modulo prediletto del tecnico curato ex Juventus ed ex Verona con in campo Meret, Rachmani, Östigord, Nathan, Lorenzo, Anghissalo, Botka, Oliveira, Zilinski, Skvarnaceglia e Ozymen. Ovviamente ho messo Oliveira al posto di lui semplicemente per un discorso anagrafico e ora che insomma il giovane Uruguagio comincia ad avere un po' più di titolarità e ho schierato un pochino questa difesa 3 con Östigord come perno centrale e vi spiego il perché. In primis Nathan lo reputo ancora un po' acerbo per vestire quel ruolo così importante da difensore centrale pura. Ho messo Östigord al posto di Rachmani, allora Rachmani ha lettori difensivi diverse mentre Östigord ha un modo di interpretare il ruolo di difensore centrale un po' più aggressivo quindi un po' più simile magari a quello che può essere ad esempio il Bremer al Torino o alla Juventus per farvi capire. Comunque contando che lì giocava Gunther all'Eras Verona quindi voglio dire tutto ramo a questi giocatori belli e vigorosi lì l'unica cosa che vorrei appuntare ad Östigord è che deve un pochino più imparare a frenarsi perché un giocatore secondo me molto talentuoso ma ancora è troppo istintivo quindi deve cominciare un attimino a calmarsi ovviamente non sarebbe neanche assurdo vedere Rachmani al centro e Östigord come braccetto da questo punto di vista Östigord non ha il movimento a braccetto ma comunque tecnicamente ecco l'unica cosa si potrebbero invertire questi due. Diorenzo e Olivera tutta fascia, chissà e Lobotka come linea centrale Lobotka l'ho messo sul ceno sinistra nonostante in tanti siano desti di piede perché Lobotka fa un gioco un po' meno che richiede l'inserimento ecco così quindi magari potrebbe difendere un pochino meglio secondo me o quantomeno potrebbe avere meno problemi a stare in quella posizione di campo piuttosto che Anghissà che ama correre palla al piede Poi Zelinsky che vorrà sceglia qui un discorso di un giocatore portato all'antico Zelinsky e che vorrà sceglia un pochino accentrato Poi gioco forza che magari questo 3-4-2-1 può trasformarsi anche in un 3-4-3 Ecco diciamo così però parlo proprio del modulo prediletto di Tudor Quindi un farasceglia che nonostante magari possa partire un pochino più esterno dialogando con Olivera potrebbe essere un po' più accentrato E Zelinsky che tornerebbe in questo ruolo di trequartista che fondamentalmente è il suo Ovviamente preferisco Zelinsky al politano della situazione perché secondo me ha molta 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 più tecnica Zelinsky che politano Mi piace di più Ovviamente Ozyman punta centrale Ma d'altro canto vi ho preparato un'altra slide dove vi metto in risalto le alternative che ha Napoli Ed è questa qui Ma in grigio vedete le alternative E dove stanno le criticità Criticità che sono sia in abbondanza che in deficit Perché qui nelle posizioni di trequartista e di punti sono saturi E in questa grafica mi sono scordato anche di mettere Gaetano Un altro trequartista A centrocampo dovrebbe essere integrato Demme per fare lo stesso gioco di Lobotka E Cajustanghissà sarebbe la coppia titolare riserve sul centrodestra Sulla fascia destra ragazzi Zanoni vice di Lorenzo non lo vedo proprio Ma vediamo un grandissimo deficit in difesa Perché abbiamo un Juan Gesus eventualmente in luogo di Nathan Però non vi è un vice Rahmani e un vice Östigold Quindi veramente sarebbe una difesa che avrebbe tre uomini Conterebbe quattro uomini per tre titolari Mentre per tre titolari in attacco Hanno dieci uomini Contando appunto Gaetano Ma la mia follia E seguendo anche un pochino esempi degli ultimi tempi nel calcio Abbiamo visto ad esempio Darmian Aspili Queta Contiamo sempre che Di Lorenzo non ha più vent'anni E quindi vi ho preparato una terza slide Che parzialmente andrebbe a risolvere questo problema dei difensori centrali Ed ecco destra Vediamo che Di Lorenzo l'ho spostato come braccetto di destra Appunto in questa difesa tre Un Ostigold che andrebbe a fare la riserva Di Lorenzo in questo caso O di Rahmani Insomma giocatevela voi E ho messo Elmas a tutto campo Sarebbe un assetto molto offensivo Perché in questo caso Avere Di Lorenzo e Elmas come catena di destra Sarebbe veramente clamoroso Perché uno va a spingere O meglio Di Lorenzo va a spingere in su Elmas Quindi in questo caso Il Lobotca o il Deme della situazione Dovrebbe dare molta mano alla difesa In più In grafica Mi sono ricordato di inserire Gaetano E comunque ci troveremmo con queste cose Quindi con Politano e Gaetano Nel luogo di Zelinski Lindstrom e Zerbin Nel luogo di Kvarnasceglia Ovviamente come riserve Però davanti c'è Sia Super Saturi Con Osimen Raspadori Raspadori E Simeone Al netto di tutto Che Raspadori Potrebbe tranquillamente Ricoprire il ruolo di Zelinski Perché avere un Raspadori lì Con un Farasceglia Che si andrebbe un pochino ad accentrare Si potrebbe tranquillamente Tramutare In un 3-4-1-2 E ricordiamo che Tudor ha avuto lasagna Se non ricordo male Al Verona Lasagna E lasagna Era una punta Che sarà trasformata Nel 2-3 quartisti Se non ricordo male Vi era In attacco Se non ricordo male Simeone Probabilmente E poi Come 3-4-3 quartisti Vi era Lasagna E Barak Mi pare Ok O sì Barak O Youngton Un di due Comunque Per farvi capire il concetto Avere una punta Di movimento Un po' più arretrata E un 3 quartista Che ti svaria Spero che ovviamente Questi video Un po' Chiacchierecci Insomma In nome di un ipotetico Tudor Nel Napoli Insomma magari Che vi possa servire Per avere qualche spunto in più E per Vedervi questo video Insomma Nei momenti di relax Insomma Giusto per Parlare Dialogare Un po' con voi Ovviamente Fatemi sapere qui sotto Cosa ne pensate Vi mando un bacione E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao